La cultura, trame del 27, edito da Calosso, il quinto romanzo di Jim Tatano, è uscito lo scorso 20 ottobre, ha per protagonista il medico Salvatore Costa che nel 1927 si trasferisce dalla Liguria in Sicilia e precisamente a Sciacca che diventa come cittadina coprotagonista di questo romanzo. Sentiamo l'autore. Un libro che parte da una stagione particolare, il 1927, siamo in Sicilia e a Sciacca. La domanda è perché? Per avere un punto di vista differente dall'oggi e confrontarci con il passato. Il protagonista è un medico ligure che si chiama Salvatore Costa che secondo lui, secondo una sua festazione personale, sfugge da Cupido, dalla sua Liguria per andare il più lontano possibile. Sciacca, ma non solo, è parte fondamentale della narrazione. Sì, è la classica commedia municipale, quella in cui esiste un protagonista che è un personaggio ma a fianco esiste un altro protagonista che è tutta un'intera comunità con diversi tipi di personaggi, con le loro vizi e le loro virtù. Questo romanzo è molto molto leggero, molto divertente, ma soprattutto è anche un'occasione per riflettere sia per quello che sta accadendo, sia per quello che è già accaduto e chissà, magari questo 1927 sarà qualcosa che deve ancora arrivare.